Ciao a tutti, benvenuti, siamo qui in Spazio Vital, come stai? Sono Gabriella Mora, ricorda che quando ti tocca, ti tocca e oggi ti tocca stare qui conmigo, siamo in la città di Taranto, in Italia con il gran cantante di opera Antonio Estragapede che nos va a dare il tour per il conservatorio dove è anche l'ex-professore Antonio, come stai? Tutto bene, ciao a tutti gli amici di Spazio Vital bene, grazie, siamo qui dinanzi al conservatorio Giovanni Paesiello di Taranto uno dei conservatori più prestigiosi della Puglia un conservatorio da cui sono usciti tanti musicisti e in cui io insegno veramente da 15 anni è un bellissimo conservatorio, abbiamo tanti, tanti studenti che vengono da tutto il mondo e studiano qui per perfezionarsi anche nella musica e nei vari strumenti io insegno canto lirico e diritto e legislazione dello spettacolo è un conservatorio prestigioso che ha una storia di 100 anni è intitolato a uno dei musicisti più illustri di Taranto appunto Giovanni Paesiello, musicista del Settecento che ha composto tante opere qui a Taranto io chiamo il mio pianista collaboratore Dante, vieni qua così fai anche tu un'intervista Sì, sì, Antonio, presenta, presenta tuo amico, come stas? Dante Roberto, Dante Roberto, is a teacher è un docente di pianoforte presso questo conservatorio a Taranto conservatorio appunto Giovanni Paesiello è un pianista, insegna sia pianoforte sia accompagnamento per i cantanti e quanto tempo insegni qui a Taranto? da quasi vent'anni oh wow, e è l'esercizio? è l'esercizio? è l'esercizio? è l'esercizio? sei l'esercizio? sì, sono di Taranto e ho andato qui e lavoro e opero qui e anche fuori e che cosa ti piace di più fare qui a Taranto? che cosa ti piace più di Taranto? no, di Taranto non è neanche Abaudi, è il tuo lavoro che puoi dire? io mi interesso mi occupo di musica e di sociale quindi cerco di impegnarmi tanto nell'aspetto musicale che è la mia vita, che è il mio lavoro e tanto anche nella promozione sociale di iniziative che vanno a valorizzare la città che è una cosa fondamentale per me eccellente, ringrazio! e lo conosciuto da un lungo tempo? sì, noi ci conosciamo da tantissimo tempo il maestro è anche un compositore il compositore ha scritto un disco che si chiama The Circle poi ha scritto dei libri di sorfeggio che si chiama The Circle la mia attività non è solo di concertismo ma ho scritto dei libri di didattica pubblicati da editori nazionali Ricordi Mondadori e poi è uscito un mio CD l'anno scorso che adesso andrò a promuovere con il concerto insomma l'attività è varia e sempre costante quando è il concerto? quando? il concerto penso fine novembre ah ok, potrebbe inviterci un'ottività al concerto e anche venire a visitare magari anche le nuove persone a venire a studiare musica? ti inviterai poi a vedere questo speciale ci sarà sicuramente un invito ci sarà sicuramente un invito è una grande pubblicità però mi sarà un piacere avervi anche per ascoltare il concerto e per parlarne magari great, Antonio un messaggio per le nuove persone che vogliono studiare musica cosa direi? io direi venite tutti a Taranto a studiare musica soprattutto canto lirico qui a Taranto ma non solo canto lirico noi abbiamo tantissimi strumenti qui a Taranto i più importanti logicamente violino, pianoforte, viola, violoncello tromba, tantissimi tutti gli strumenti questo è uno dei conservatori più prestigiosi in Puglia appunto c'ha quasi cento anni e poi oltre al conservatorio Taranto è una città meravigliosa una città in cui veramente si vive bene non è vero che si parla male dell'inquinamento si vive veramente è una città in cui Tarantino non sono Tarantino ma vi sento veramente bene accolto molto bene da questa città venite a visitare Taranto e venite a visitare la Puglia great, great thank you very much for your time and then would you like to share something with your audience? grazie a voi grazie ciao ricorda che sei in Spazio Vital quando ti tocca, ti tocca e oggi ti tocca stare con noi nel Conservatorio di Musica uno dei più prestigiosi in Italia qui è la città di Taranto in Puglia in Puglia, a cerca di Bari e questa è una delle calles principali sì una delle strade principali di Taranto questa è via Duomo la strada più importante diciamo, della città antica dove c'è la casa di Paesiello eccellente Antonio, moltissime grazie e a tutti, grazie ciao, grazie grazie grazie